Allora amori buongiorno sono le 11 e ho perso il treno. In realtà ho perso quello delle 8, quindi prenderò quello di mezzogiorno e mi sono già truccata. Ora mi pasto. Visto che ho rifatto l'azione perché avevo ancora fame, laverò anche i denti. Ok ho fatto la valigia, devo solo mettere le ciabattine qui e le andrò a mettere prima qui dentro. Ho fatto ora prima di chiuderla controllo un attimo se ho dimenticato qualcosa in giro, ma non credo. Poi metterò questa borsa che ha le mie edizioni. Andiamo a mettere i calzini in là, dobbiamo mettere il portafoglio. Comunque per ora l'outfit è questo. e dopo ve lo faccio vedere completo. Ci metterò questo. Ora mi riposo un altro po', e poi verso mezzogiorno, calcolo che sono le 11 e un quarto, verso mezzogiorno andrò a prendere il treno. Se qualcuno vuole venire a Venezia a prenderci, no problem. Ci fa un favore, guarda, perché stanno cancellando tutti i treni. Siamo riuscite a prenderlo e partire. stanno insieme a tutti i treni. Anche! Per le niente? A presto! Grazie a tutti.